Nel panel qualcuno ha detto che prima di visitare una camera d'albergo si entra in un territorio, in qualcosa di nuovo per il viaggiatore. Perché prima di organizzare un viaggio si va per esempio su Venere e si va a vedere quale albergo migliore, che voto ha un albergo piuttosto che un altro? Perché state avendo così tanto successo? Perché di fatto quello che noi permettiamo a un potenziale cliente è quello di fare una scelta un po' più mirata evitando un po' le sorprese. Praticamente entrando su un sito di un intermediario invece che direttamente su un sito di un albergo, in realtà l'utente, il cliente può mettere a confronto diversi alberghi, può selezionare, magari verificare che servizi forniscono, può anche vedere che esperienze hanno avuto clienti che sono stati lì prima di lui e magari anche andare a cercare un tipo di cliente che è simile a lui, ad esempio vado a vedere le famiglie, io andrò con la mia famiglia, vado a vedere le famiglie che risposte hanno dato e che giudizia hanno dato rispetto al servizio ottenuto dall'albergo. Allora in questo modo praticamente il cliente non fa nient'altro che ridurre il margine di sorpresa per non definire la rischio di avere poi una brutta avventura, molto banale. Ecco, con i vostri sistemi è molto semplice ora per un viaggiatore crearsi il suo viaggio su misura senza come diceva lei avere sorprese, sul lato invece agenzie di viaggio ci sono stati degli attriti, ci sono degli attriti tuttora oppure lavorate tranquillamente insieme? Noi poi particolarmente Venere, sì assolutamente sì, noi in Venere tra l'altro me ne occupo direttamente, abbiamo 7.000 agenzie di viaggi di cui 3.500 italiane che ai loro clienti offline prenotano un albergo su Venere ma questa è proprio una scelta di Venere, noi sappiamo esattamente che ci sono delle persone che amano rivolgersi all'agente di viaggio sempre per non trovare brutte sorprese invece di avere un dialogo con un oggetto online preferisco andare ad una persona che gli dice guarda ti consiglio questo albergo piuttosto che quest'altro. Ora gli agenti di viaggio che hanno come primo obiettivo specie in questi ultimi anni è quello di tramutare ogni cliente che entra, ogni persona che entra in agenzia come cliente sono sempre alla ricerca disperata di strumenti che gli aiutino in questo. Ora avere a disposizione con 3 clic perché questa è poi l'interfaccia che noi diamo alle agenzie di viaggi con 3 clic qualcosa come 50.000 alberghi con recensioni, fotografie, servizi e bla 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 significa per l'agente di viaggio 99% riuscire a dare, riuscire a soddisfare bisogno del singolo individuale cliente che gli entra indipendentemente dal profilo che questo cliente ha, quindi noi non solo non siamo nemici non vogliamo essere nemici e non consideriamo nemici di agenzie di viaggi, proprio al contrario perché noi sono degli importanti alleati, sono la nostra estensione sull'offline.